La prima funzione di tascabile si ritrova nell'area arancione ed ha la possibilità di personalizzare lo strumento. Cliccando nell'icona centrale si potrà accedere quindi alla pagina dove posso inserire il mio nome o il nome della persona che utilizzerà lo strumento stesso. In questo caso andiamo a scrivere Giorgia. Cliccando nella sezione gestisci immagine posso catturare l'immagine dalla galleria o scattare direttamente la foto della persona. Scattata la foto ho la possibilità di andare a ridimensionare la figura in modo che diventi più significativa e centrata possibile. Cliccando sulla spunta salverò i dati e salverò quindi l'immagine e il testo che ho scritto.